questo è per voi mettiamo tutto quello che non è che senza nulla ragione ha parlato senza nulla che la difende la mia schiena non è venuto una persona nessuno scusina già l'affetta ea casa e nostra famiglia io ci dice che veniva a parlare come si come si capisce ragione e sapere dove a fare i desi sbarazzati da becchi cosa tutto sto casino e allora è picchi un posto è un posto è una vostra in sicilia no no tocca la presa io io vado a mano stu favore di un paesano ma già l'affetta e non ne posso fare ma la figura di non vincolino il barone cassa e quanto pagano che sono messi cinque scuole caggis uno si è messo d'anticipo ma non ci reggis a nienta vita è una cristiana orgogliosa e mi venissi a trovare un tannato di servizio è mai scelto un cane a prestare a un cane a prestare sto cazzo sto cazzo sto cazzo si che stanno vanno a casa non ordine a mia mani comanda oh tu stai attenta come parlo con me capiste ma se noi alcune cose non tocco un sacco di domanda sbattela andate a manzo volare il tuo menzo della strada andate a basso non fai stu piacere riguardi che questo è un muscolto è spiacea la miscitoria in testo vicinando così io e io io gli tu sanno dire come io sace o favore azzà benedì azzà benedì guarda qui toccano azzà benedì vito ma tu non è arrivato roberto sai chi trocava la casa dei soci vito ti ho mandato tutto il quartiere per sapere i pensi grazie scusatemi spero che non puoi venne a sconcecare don vito e che posso fare dono bello come ne capiamo male madonna come ne capiamo male ma come la signora colombo pota stare in tua casa certo che pota stare grazie grazie don vito io vorrei portare i soldi che mi arrasto mi torno al reto uno due tre tre uo 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 uo